Top 10 Ma ora passiamo al ballo di gruppo del mese di agosto Ballo di gruppo del mese di Liscio.1 Sierra Sierra Ora scopriamo chi si trova nelle prime cinque posizioni. 5 Batuca di Castellina Pasi featuring Renzo Tomassini. 4 DJ Berta con Lento Violento. Al terzo posto c'è Subemela Radio di Enrique Iglesias. Al secondo posto c'è Il ballo di gruppo Despacito. Primo posto per Non fermarmi di Omar Lambertini. E' nata Radio Liscio.1 La radio ufficiale italiana della musica da ballo. Scarica subito l'app. La puoi trovare gratis per iOS e Android. Radio Liscio.1 Inimitabile. Appassionata. Proprio come te. Radio Liscio.1 Inimitabile.